Un'esperienza davvero innovativa, abbiamo 140 interventi, 70 interventi al giorno, da parte di giovani, associazioni, rappresentanti delle aziende, famiglie, tutti che vengono qui per parlarci prima di un risultato del tema dell'educazione, del concorso e qualcosa della città. Quali sono le prime iniziative dell'Agenzia per la Famiglia? Come si sta attivando sulla città? In questi mesi abbiamo cercato di conoscere tutte le realtà del territorio che siamo qua in qualche modo, di famiglia che hanno poi avuto. Abbiamo impostato lo studio del concorso della Famiglia, che è l'integrazione delle sede del gammaggio di un'unica di famiglia. Questo è il mio studio, anche per la stessa domanda.